Ancora un record di contagi negli Stati Uniti, più di 77 mila casi nelle ultime 24 ore. Caos e retromarce sull'utilizzo delle mascherine che diventano terreno di scontro politico. Il corrispondente Claudio Pagliara. Anche le mascherine hanno un colore, quello della politica, rosso-blu repubblicano-democratico negli Stati Uniti dove il virus corre e le presidenziali si avvicinano. Donald Trump ribadisce il no ad un ordine nazionale che renda obbligatoria la mascherina. Preferisco che la gente abbia una certa libertà, parole in contrasto con quelle del virologo Anthony Fauci che chiede a sindaci e governatori di essere il più energici possibile nell'indurre le persone ad indossare le mascherine. Fauci, un'autorità di fama mondiale, eppure è finito sotto attacco. scritte hung Fauci, impiccate Fauci, apparse durante manifestazioni contro il confinamento, critiche anche dalla Casa Bianca. Bizzarro, taglia corto, bisogna avere fiducia nella scienza. Alla mascherina obbligatoria si sono convertiti i governatori repubblicani, inizialmente contrari, come quelli del Texas e dell'Alabama. Resiste invece il governatore della Georgia, in contrasto con la sindaca democratica di Atlanta. Il braccio di ferro sulla mascherina, mentre i contagi negli Stati Uniti superano per il secondo giorno quota 70.000. Gli stati del sud, i più colpiti, rinviata la riapertura di molte scuole. Genitori in allarme, in una contea del Texas, positivi 85 bimbi sotto l'anno d'età. Torniamo alle notizie dall'Italia con l'inchiesta sulla vendita di un capannone della Lombardia Film Commission. Prima e ammissioni dell'uomo.